Il CTEUR apre il 2020 al ritmo di balli latino-americani. Tra musica, ritmo, volteggio e meraviglia dei tanti soci presenti, la maestra di ballo Giulia Antonelli e il suo partner Luca Favilla, entrambi star dello show Ballando con le stelle, hanno stupito i soci del CTEUR giovedì 10 gennaio 2020 nell'esibizione spettacolo che ha lanciato il corso di ballo latino-americano del circolo Tennis Euro. Il presidente del CTEUR, Vincenzo Vecchio, presentando l'esibizione degli artisti, ha salutato l'evento come una delle preziosità del programma CTEUR Cultura 2020, messo a punto dal vicepresidente Bruno Costi. E dopo aver ringraziato quest'ultimo per aver organizzato l'esibizione e il corso, ha voluto sottolineare ai presenti il denso e qualificante curriculum di studi in Italia e all'estero, cumulato dalla coppia Antonelli-Favilla. Poi spazio alla musica e al ballo. I ballerini hanno stupito tutti, volteggiando nella sala al ritmo delle musiche latino-americane più famose. La maestra Giulia Antonelli, leggera e leggiadra in ogni sua movenza, ha incantato i presenti esibendosi in coppia con Luca Favilla in cinque esecuzioni di balli diversi. Ed ha anche fatto cultura prima di eseguire ogni ballo, infatti ne ha illustrato le caratteristiche, il contesto musicale e sociale nel quale è nato, arricchendo l'intrattenimento con aneddoti della sua intensa carriera professionale pur nella sua giovane età. Infine, l'immancabile bis, chiesto a gran voce dei soci, e l'irresistibile jive con il quale la coppia di ballerini ha concluso la serata tra gli scroscianti applausi. Grazie, grazie, grazie al nome di tutti noi, prima la verità del coppia e al piano di so, tutti insieme, risalziamo davvero Giulia, e su! Grazie a tutti!